cosa stiamo preparando tempura di baccalà come la prepariamo la prepariamo infarinando i pezzetti di baccalà dissalati 24 36 ore prima si e immergendolo in una pastella fatta con farina di riso e qualche semi di finocchio per profumarla acqua frizzante ghiacciata infatti fa anche fatica a scendere mescolata con un dito così si ghiaccia anche il dito no poi viene passato in pastella in pastella quindi prima infarinato poi passato in pastella e messo intanto abbiamo messo l'olio a scaldare ad alta temperatura ecco si è dorato da una parte quindi è pronto per essere girato siamo pronti per girarlo per lasciarlo dorare dall'altra parte mettiamo ad asciugare sulla carta assorbente e ora andiamo impiattare accompagniamo la tempura con qualche fettina di finocchio saltato con un boccino d'olio e una salsa agli ogromi profumato allo zenzero il piatto è pronto questo piatto è stato realizzato da Daniela Calvi presso il ristorante Pradovaio di Monte Carlo Versigia grazie a tutti